Per tutti voi, da Massimo, dall'orchestra e dal coro Ana Valnure, Il Silenzio. L'anziano va fuori a divertir, non preoccuparti che i giorni passano ed il congedo arriva anche per me. Grazie a tutti. L'anziano va fuori a divertir, non preoccuparti che i giorni passano ed il congedo arriva anche per me. Massimo. 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 Grazie. Massimo Mascara e il coro Anna Valnure.